E' stato il Vescovo Francesco a presidere la messa nella Chiesa di San Giuseppe al Porto in occasione del diciassettesimo anniversario della morte di Don Luigi Giussani e del quarantesimo del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione, con lui a concelebrare i nove sacerdoti riminesi del Movimento e altri preti della Diocesi. Quest'anno un'occasione ancora più speciale perché coincisa con l'inizio delle iniziative per il centenario della nascita del sacerdote, la cui paternità ha segnato tanto della storia di Rimini. Nell'omelia il Vescovo ha voluto rimarcare come Don Giussani cogliesse la forza dell'azione dello Spirito che diveniva faro nel cammino. Il vostro fondatore, il servo di Dio Don Giussani, ha scritto Siamo qui per costruire la Chiesa secondo la spinta che lo Spirito ci ha dato e che chiamiamo Movimento. Don Giussani nomina lo Spirito, lo Spirito di Cristo. Ecco come fa la Chiesa a resistere agli attacchi e ai contraccolpi delle forze degli inferi, grazie alla potenza dello Spirito, non grazie ai nostri presunti meriti, ai nostri sforzi di buona volontà. Bella è partecipata la presenza della comunità di CL, circa 850 le persone presenti, ma anche dei rappresentanti di altri movimenti aggregazioni laicali e delle autorità, prefetto, questore e vice sindaca. È stato Cristian Lami, responsabile diocesano di Comunione e Liberazione, raccontare come Don Giussani abbia saputo parlare alla sua vita e a quella dei tanti amici del movimento. Sono commosso perché posso dire che Don Giussani ha cambiato la mia vita e quella di molte persone qui presenti. È riaccaduto, duemila anni dopo, per tanti tra noi, lo stesso incontro che fecero Giovanni e Andrea, i quali si sono imbattuti in Gesù e hanno sperimentato uno sguardo su loro stessi senza paragoni. Con questi amici, dentro la storia di un popolo, posso dire di aver incontrato Cristo attraverso il carisma ai Don Giussani. Lami ha poi stretto in un abbraccio lungo e commosso il Vescovo, che alla comunità ha dedicato una benedizione particolare. Vi auguro, e questa è l'intenzione della benedizione, di essere lievito di unità e fermento di santità nella Chiesa e nel mondo. E ancora di essere punto luce e stimolo credibile e contagioso di speranza.